Dei registi di Telefine Town GTR, dei creatori dell'Agency, a settembre. Octopus. Accogliamo solo i pazienti più pericolosi e disturbati, quelli che nessun altro ospedale sa gestire. Lui ci ha spiati. Tutto questo tempo lui ci ha sempre spiati. Forse ha un guapino e individuato un nuovo bersaglio perfetto. E me la voglio riprendere. Lui ha sottratti a un'esistenza felice. Avevate tutti dei problemi. Eravate soli alla ricerca di qualcosa che non riuscivate a trovare. E' importante ricordare. Mi ho scelti perché avevate bisogno di questo gusto quanto ho visto di voi. Sarai sempre ciò che apri c'èざnessa. A presto, dobbene. e quando meno te lo aspetti che ci sia il testo grolo rango